Correre insieme, correre perché è bello e per dimostrare che la vita importante va vissuta pieno fino all'ultimo istante. Per questo è importante la solidarietà, per questo sono importanti le cure palliative per chi soffre e per questo è importante l'attività dell'associazione Il Papavero del Mon che ci insegna che ogni istante la nostra vita è importante e va vissuto pienamente.